Buongiorno 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 Grazie Mamma, 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 mi puoi prendere il telefono in borsa che io faccio una foto? Quanto vuoi bene a me? Tanto! Ahahahah Ahahahah Gli ascia Bimbo Ciao bimbo Ciao bimbo Bene Angelo qui e qui mettiamo l'ori Perché l'ori lo devo tenere Guarda là Fai cheese come ti ha insegnato Angelo 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 Guarda tata Papa Tu scello perché sei piccolo Bravo Francesca Angelo spostati Cura per cos'è Cos'è sta roba E' l'ota 7 E' bello un bel po' Sì Schioppa E' quello è il problema E' bello Delitto perfetto Schioppa 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 Non funziona Non funziona .